Voi siete stati scelti dal Signore che vi ha chiamato uno a uno. Fate sempre memoria della vostra storia personale e siate misericordiosi come il Buon Pastore. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto agli undici nuovi sacerdoti ordinati nella Basilica Vaticana. Pronunciando l'omelia rituale per l'ordinazione dei presbiteri, arricchita da alcune parti a braccio, il Pontefice ha chiesto loro di leggere assiduamente la parola del Signore per credere ciò che avete letto, insegnare ciò che avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato. Con il battesimo aggregherete nuovi fedeli al popolo di Dio, aggiunto con il sacramento della penitenza rimetterete i peccati nel nome di Cristo e della Chiesa e per favore, in nome dello stesso Gesù Cristo, il Signore, in nome della Chiesa, vi chiedo di essere misericordiosi, tanto misericordiosi. Imitate ciò che celebrate, perché partecipando al mistero della morte e risurrezione del Signore, portiate la morte di Cristo nelle vostre membra e camminate con Lui in novità di vita. e camminate con Lui in novità di vita. E camminate con Lui in novità di vita. Senza croce non troverete mai il vero Gesù. E una croce senza Cristo non ha senso. Non ha senso.